Mi fa molto piacere oggi poter esprimere il mio apprezzamento per la candidatura di Emma Bonino come Presidente della Repubblica. Io non sono mai stata radicale, sono sempre stata impegnata in politica e quindi ho avuto la possibilità di seguire la vita politica e le battaglie di Emma Bonino e devo dire non immodestamente che ci siamo sempre trovati sulle grandi questioni di civiltà e dei diritti umani dalla stessa parte. Sono molto contenta che ci sia questo nome che è diventato un nome molto apprezzato in queste ultime settimane in un momento così difficile della vita del Paese. Credo che lei potrebbe essere un Presidente della Repubblica o una Presidentessa della Repubblica che rappresenta quelle caratteristiche di cui tutti parlano ma non so se saranno poi effettivamente perseguite. Una persona competente, una persona che ha un altro profilo anche a livello internazionale che ha dato prova anche come Commissario Europeo per i diritti umani veramente di grande umanità e di grande competenza, una persona che quando dice una cosa si pensa, si capisce che la pensa e ha molta coerenza e anche molto equilibrio. Quindi credo che in un momento così difficile per la vita politica italiana sarebbe una cosa molto bella averla come punto di riferimento nazionale per il rispetto che lei ha sempre dimostrato per le istituzioni e per la capacità però di essere combattiva e anche coraggiosa. È una donna di valore e come questo le auguro di poter arrivare a questo risultato che non sarebbe un risultato soltanto per lei ma per tutti noi.